faceva un freddo intenso un gente il cielo luccicava tutto di stelle non tirava un alito di vento ecco una vecchia stagna di petrolio venne a colpire l'uscio di una casa pam pam fecero i mortavetti di rimando perché si festeggiava l'anno nuovo era la notte di san silvestro l'orologio della chiesa aveva suonato allora allora dodici tocchi il carrozzone della dirigenza arrivava pesante mezzo sconquassato e si fermò alla porta della città c'erano dentro dodici passeggeri né di più avrebbe potuto portare tutti i posti erano presi evviva evviva gridava la gente in tutte le case della città perché era l'ultima sera dell'anno e allo scoccar della mezzanotte tutti riempirono i bicchieri e bevettero alla fortuna dell'anno nuovo buon anno buon anno era l'augurio di tutti salute pace felicità figli maschi e quattrini in quantità tutti ripetevano l'augurio i bicchieri si toccavano tintinnavano e proprio in quel momento alla porta della città si fermava il carrozzone con i dodici forestieri chi erano quei viaggiatori ciascuno aveva il suo passaporto e il suo bagaglio e portavano persino dei regali per te per me per tu tutta la gente della città ma chi erano che volevano che cosa portavano poi buon anno gridarono alla sentinella che era di guardia alla porta della città buon anno dispose la sentinella e al primo che scese dalla dirigenza il suo nome e la professione domandò veda lei nel passaporto rispose l'uomo io sono chi sono ed era un bel tipo davvero tutto ravvolto in una pelliccia d'orso con gli scarponi col pelo sono colui cui tanti e tanti concentrano le speranze venga da me domani e le darò una bella strenna di capodanno spargo per tutto mance e doni e faccio inviti a balli e a feste ma più di 31 non ne posso dare le mie navi sono in mezzo agliacci ma il mio studiolo è caldo e vi si sta bene sono negoziante all'ingrosso il nome è gennaro e porto con me una quantità di conti e di pollice se si atterra il secondo era un allegro camerata impresario di teatri direttore di balli figurati anima di tutti i divertimenti possibili e immaginabili tutto il suo bagaglio consisteva in un grosso barile quando c'è questo l'allegria non manca mai disse gli voglio far divertire ma voglio anche divertirmi poiché ho poco tempo da vivere di tutta la famiglia sono quello che vive meno 28 giorni soltanto tutt'al più ogni tanto mi buttandà un giorno per sovrammercato ma non ci conto molto e faccio buon sangue ugualmente evviva non tanto chiasso fece la sentinella posso fare quanto chiasso mi pare e mi piace rispose il viaggiatore sono il principe carnevale e viaggio in incognito sotto il nome di febbraio se c'è il terzo era magro come la quaresima camminava col naso all'aria perché era parente dei 40 cavalieri danesi del nostro pescatore di chiaravalle di marangleone di turogna e dello schiesone faceva lunari e predicava il tempo e le stagioni il mestiere però non era troppo lucroso ed ecco perché consigliava tanto i digiuni portava all'occhiello un mazzolino di violette ma piccina piccina e stente don marzo don marzo gli chiedò il viaggiatore sceso dopo di lui e gli batte sulla non senti che buono dolino va subito nella saletta dei doganieri stanno bevendo un pons la tua bevanda prediletta l'ho sentita alla fragranza corri corri don marzo ma non era vero niente colui che parlava non voleva se non fargli una burla uno dei suoi famosi pesci perché aveva nome aprile e col primo pesce cominciava la sua carriera nella città sembrava molto allegro lavorava poco perché aveva più vacanze di tutti basterebbe che ci fosse un po di stabilità a questo mondo disse ma talvolta siamo di un regaio dall'altra uggioso secondo le circostanze ora piove ora fa sole ora si sgombera ora si torna io tengo una specie di agenzia di collocamenti fitti e vendite e ho anche l'impresa dei trasporti funebri rido piango a seconda del momento in questo valigia ho i miei vestiti da estate ma non sono tanto sciocco da mettermi lì eccomi qua la domenica vado alla messa con le calze di seta trafori e col manicotto dopo di lui scese una giovinetta aveva nome maggiorina portava un leggero vestito da estate d'un verde tenero e sopra le scarpette un paio di galosce nei capelli aveva un mazzolino di anemoni ed era tanto profumata di timo che la sentinella starnutì dio vi benedica esclamò la fanciulla e quello fu il suo saluto come era bella e come sapeva cantare non era cantatrice da teatro né da camera era cantatrice di bosco perché andava errando lietamente per la verde foresta e cantava a suo piacere nella borsetta da lavoro aveva due librizzini uno di poesie uno di fiabe seguiva un signore di campagna uno che non si occupa se non di seminare di arare e di dissodare e alla passione dei cavalli e della caccia il conte ottobre aveva con sé il cane ed il fucile e la carniera piena di noci che facevano un rumorino secco quando camminava tra i suoi innumerevoli bagagli aveva persino un aratro di fabbrica inglese e non parlava che di agricoltura ma a malapena si sentiva quel che diceva per la gran tosse e le rumorose soffiate di naso del suo vicino quelli che tossiva così era novembre molto seccato da una tremenda infreddatura da a lui diceva fruttava più il naso che la tasca e nonostante l'infreddatura gli toccava di andare in giro con le nuove cuoche e le domestiche per condurre a far provviste ad insegnar loro il servizio d'inverno diceva che si sarebbe liberato dai suoi maranni andando al bosco a far legna doveva spaccarla e segarla perché era gran guardiano della confraternita dei segantini e fornitore del focolare passava la sera a intagliare il sole di legno per i pattini perché sapeva bene diceva che tra poche settimane ci sarebbe grande richiesta di quel genere di calzature finalmente comparve l'ultimo viaggiatore il vecchio nonno dicembre con lo scaldino in mano era tutto intirizzito ma gli occhi gli brillavano vividi come due stelle e teneva tra le braccia un vaso di fiori dove cresceva un piccolo abete diceva avrò cura di quest'alberello perché cresca bene e per la sera di natale possa arrivare con davetta a toccare il soffitto e adornarsi di cento candeline colorate e di mele d'argento e di figurine una più bella dell'altra questo scaldino manda un calore che pare una stufa caverò di tasca il libro delle novelle e leggerò forte per far che tutti i bambini di casa stiano buoni e allora le figurine dell'albero di natale diverranno vive e il piccolo angelo di cera spiegherà le a luce di stagnola dorata e volerà giù dalla vetta dell'albero e bacerà grandi e piccini e tutti quelli che sono nel salotto caldo e anche i poveri bambini che stanno fuori in strada e cantano la canzone della stella di betlemme bene ora la diligenza può andare disse la sentinella tutti i dodici passeggeri sono scesi frusta cocchiere prima bisogna che i dodici viaggiatori vengano qui da me disse il gabegliere una per volta i passaporti restano a me ognuno è valido per un mese finito il mese scriverò sul passaporto le generalità e le note a seconda della loro condotta don gennaro abbia la bontà di venire qui e don gennaro si presentò al gabegliere di qui a un anno credo che sarò in grado di dirvi quello che i dodici viaggiatori avranno portato in dono a me a voi e a tutti ora non lo so parola d'onore e sto per dire che forse non lo sanno nemmeno loro si vive in certi tempi così curiosi